Musica Mamma! Ah Alessandra, come stai? Vuoi un tè? Sì, grazie. Sono passata per sapere se ti piace il regalo che ti ho fatto. Ma Acqua T è favoloso. Vieni che ti faccio vedere. È più bello che in pubblicità. Soprattutto è utilissimo per me che ho qualche problema raggiungi a certe parti del corpo per un'igiene intima perfetta. Con il telecomando aziono il beccuccio dell'acqua per una corretta igiene intima e poi metto in funzione un getto di aria calda per una perfetta asciugatura. E dopo l'utilizzo, la deodorizzazione. Quasi quasi lo compro anche per me. Faresti bene, anche il te ci aspetta. Sai mamma, quando l'ho visto ho detto Acqua T è quello che fa per noi e ho prenotato la visita di un tecnico qui a casa tua. Ma io non ho visto nessuno. Sono venuta mentre tu eri al mercato con Maria e con lui ho capito che tu non potevi più rinunciare all'igiene personale, alla freschezza e al tuo comfort. Mai per l'installazione? Ti ricordi quando sei andata dallo zio? Siamo venuti e in breve tempo hanno installato Acqua T senza opere murarie. E così Maria non sarà più costretta ad aiutarmi. Acqua T è un angelo custode per me. Mi aiuta tutte le volte che ne ho bisogno. Se anche voi volete regalare privacy e comfort ai vostri cari, chiamate per avere informazioni. Acqua T, il legame intelligente tra il WC e il bidet tradizionale per migliorare l'igiene personale di tutta la famiglia. In Terra Santa il Natale è ancora una volta un Natale di guerra. E in tutto il Medio Oriente crescono le tensioni. Caritas Italiana e Foxiv continuano a sostenere le ragazze e i ragazzi che in quei territori sognano, con coraggio, un futuro diverso. Ma anche noi possiamo farlo con loro. TV 2000 propone una maratona di cinque giorni per capire cosa sta accadendo e per scoprire cosa si può fare oggi, nell'ora del conflitto, per sostenere la speranza della pace. Ai sognatori, a chi cerca il piacere, a chi sa cogliere il momento e goderselo. A voi che sapete trovare il lato straordinario della vita. Una nocciola intera e un morbido ripieno, in uno scrigno croccante con granella e cioccolato, in un prezioso incarto dorato. Ferrero Rocher, accendi l'oro che in te. Natale è buono davvero, se lo è per tutti. Per questo l'eccellenza fiorfiore copp del salmone selvaggio affumicato è al prezzo speciale di 4 euro a confezione. Una buona spesa può cambiare il mondo. La copp sei tu. Così morbida, così tenera tenderli. Per anni Manuel ha ricevuto botte anziché carezze. Il giovane Ahmed vagava per il mondo senza meta. E Sofia si faceva del male perché si sentiva ignorata. Oggi sono al sicuro con noi ed è bello vederli sorridere. Chiama adesso l'800 20 20 32 e attiva una donazione regolare a favore dei salesiani per il sociale. Ogni giorno insieme daremo ai giovani che dalla vita hanno ricevuto meno degli altri tutto l'amore che ci ha insegnato Don Bosco. Chiama adesso. Grazie. Papà! Guarda, il mio necone è tutto macchiato. Non preoccuparti. Ci pensiamo noi. Ci credo che non vuole entrare. Macchio difficili e cattivi odori nella lavatrice. Prova il nuovo Dixan pulito profondo. La sua formula unica garantisce pulizia profonda per il bucato e una rimozione dieci volte superiore dei cattivi odori per una freschezza igienica della lavatrice. Il mio necone l'adora! Scegli il nuovo Dixan. Scegli il nuovo Dixan pulito profonda per il bucato a friddo. Questo anno faccio il più bel presepe della vita. A me non mi piace. Il presepe piace a tutti. Perché mi sono trattati? Buonasera. Nicolino siamo così, facciamo bu, 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 bu. Alla fine siamo una famiglia. Non sarà ancora. Sergio Castellitto in Natale in Casa Cuppiello. Questa sera alle 20.55. 67 suicidi in meno di un anno dentro le nostre carcere, le carceri italiane. È un bilancio davvero triste, drammatico, che cozza contro lo spirito della Costituzione, quell'articolo 27 che vuole le pene come rieducative, ma soprattutto pone a noi tutti delle domande importanti, interroga l'intera collettività. Ne parliamo a Siamo Noi, alle 15.15. Ciao!